Villa Santa Maria si trasforma in set cinematografico. Da alcune settimane il centro sangrino conosciuto nel mondo per San Francesco Caracciolo e per i cuochi è diventato di fatto una piccola cinecittà con una troupe cinematografica che ha scelto la location villese per girare il film Storie Sospese, diretto dal regista vezzanese Stefano Chiantini e che tra i protagonisti può annoverare Marco Giallini, uno degli attori più conosciuti del momento, vincitore del Nastro d'Argento nel 2012, come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione nei film Posti in piedi in Paradiso di Carlo Verdone e in Acab Al Cops al Bastard di Stefano Sollima. A regista Chiantini abbiamo chiesto di spiegarci i motivi che l'hanno indotto a scegliere Villa Santa Maria per ambientare gran parte della sua storia. La prima cosa è che io sono abruzzese di Avezzano e quindi mi andava di girare nel mio territorio. Il film racconta una storia di montagna e l'Abruzzo più di altre regioni si presta a tutto questo. Villa Santa Maria aveva le caratteristiche che io cercavo, questo paesaggio così bello, così selvaggio, così presente, la parete sul paese attaccata e poi aveva anche un elemento invece di civiltà e di, tra virgolette, inciviltà, che è questo viadotto molto presente. Questa contaminazione mi piaceva molto, insomma. Questo è stato il motivo della scelta. Ci può anticipare la trama? La trama, diciamo, è la storia di un uomo che fa un lavoro molto particolare, il rocciatore. mette in sicurezza le pareti rocciose e quindi viene a lavorare nel paese e incontra poi delle persone e nascono delle situazioni che porteranno a dei cambiamenti. Ecco, di più non vi dico. Sul cast invece, quali sono i nomi più conosciuti? Beh, il cast è partendo da Marco Giallini, Maglia Sanza, Alessanzo Tiberi, Giorgio Colangeli, Simonetta Soldi, Alessanzo Ceccarelli, Antonio Gerardi, Pietro Bontempo, insomma, un bel cast. Invece i canali distributivi, già li sapete, quali saranno? Sì, il film intanto è prodotto dalla Faso Film, Marta Manzotti e Fulvia Ciccone con il contributo del Ministero e con la coproduzione Rai. Uscirà, diciamo, principalmente prima ai festival del cinema e dopodiché avrà un percorso anche televisivo. Pino Finamore, il sindaco di Villa Santa Maria, un'occasione più unica che rara per promuovere Villa Santa Maria attraverso i multimedia, come si definiscono al giorno d'oggi, con la pellicola cinematografica, è un evento mai accaduto prima d'ora a Villa Santa Maria, giusto? No, mai accaduto. È la prima volta, così come è stata la prima volta per avere un sindaco cuoco, così come è stata la prima volta di un cardinale a Villa Santa Maria. Questa è una cosa che, insomma, ci fa molto piacere. Siamo onorati, insomma, che una troupe televisiva, una casa cinematografica, abbia scelto Villa Santa Maria sia per le sue caratteristiche, ma anche per la disponibilità che l'amministrazione comunale, come dire, ha avuto nei confronti loro. Ci siamo messi completamente a disposizione perché capiamo che una cosa di questo tipo, insomma, non succede tutti i giorni. Quindi, ne siamo onorati e speriamo che abbiano, come dire, tanta fortuna con questo film, storie sospese. Una vetrina per Villa Santa Maria che si accinge anche a una notevole attività estiva con le manifestazioni in corso. Sì, diciamo, questo non ha fatto nient'altro che prolungare un po' quella che è la nostra stagione estiva che apre nei prossimi giorni e quindi abbiamo avuto, tra virgolette, la possibilità di poter far visitare, diciamo, non solo la troupe, ma anche quelli che, diciamo, sono anche dietro tutto questo. Quindi questo ci dà la possibilità di capire quanta importanza c'è intorno al dover girare un film e cosa si muove dietro il film stesso. Insomma, sono cose, tante piccole cose che noi neanche si conosceva. Invece, come dire, il paese ha anche partecipato, anche materialmente, perché poi moltissime comparse sono di Villa Santa Maria, compresi i bambini. Quindi è una cosa che ci fa molto piacere soprattutto poter far conoscere il nostro bellissimo territorio. Grazie. Grazie. Grazie.